Si è tenuta nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino 100 passi verso il 21 marzo, iniziativa di avvicinamento alla 24esima giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia. Negli spazi di Castelnuovo si sono dati appuntamento istituzioni, associazioni impegnate e familiari delle vittime innocenti che hanno portato la loro testimonianza nonostante l'assenza degli studenti in virtù della chiusura delle scuole decisa con ordinanza dell'amministrazione comunale a seguito dell'allerta meteo. E' compito dei comuni e delle città, ha sottolineato l'assessore giovani Alessandra Clemente, accompagnare la cittadinanza nel sapere che c'è il primo giorno di primavera in cui tutti abbiamo il dovere di fermarci e di fare memoria delle vittime innocenti. Ma ascoltiamo la Clemente. Sono oltre mille le famiglie in Italia che hanno visto un proprio caro, un proprio affetto, essere ucciso in modo vigliacco, violento dalla forza criminale delle organizzazioni camorristiche, indranghetiste e mafiose nel nostro paese. Solo nella regione Campania sono quasi 100 le famiglie e solo nella città di Napoli sono quasi 70. La giornata della memoria dell'impegno, il 21 marzo, è stata riconosciuta con legge dello Stato, giornata nazionale. E' compito quindi dei comuni, delle città, adesso accompagnare la cittadinanza nel sapere che c'è un giorno, il primo giorno di primavera, dove tutti abbiamo il dovere di fermarci, di fare memoria delle vittime innocenti e di legare ad un'idea della memoria un senso concreto di impegno, perché altrimenti la memoria diventa soltanto retorica. E nella giornata del 21 marzo, in vigore da 24 anni e riconosciuta con legge dello Stato, saranno proprio le famiglie delle vittime innocenti ad aprire il corteo. Ma ascoltiamo Fabio Giuliani, il referente di Libera Campania. E' complicato, è sempre più complicato in questo momento, però puoi guardare quei familiari che ti aprono il corteo, che potevano invece nascondersi giustamente nel proprio dolore, scelgono invece di donarcelo e di farci impegnare, significa che di strada se n'è fatta, ma di strada se ne devi ancora tanto fare.